Buon sabato 19 ottobre. Il brano del Vangelo di oggi ci ricorda la presenza dello Spirito Santo, lo Spirito che illumina la nostra coscienza, ci aiuta a discernere ciò che è bene da ciò che è male. E siamo chiamati a essere ascoltatori della parola dello Spirito, perché le scelte giuste non nascono soltanto da noi. Noi siamo semplicemente coloro i quali attraverso il discernimento, attraverso l'illuminazione dello Spirito, siamo invitati a percorrere strade all'insegna dell'amore. Se guardassimo solo alla nostra volontà, alle nostre intenzioni mondane, faremmo un'opera di oscuramento, di non ascolto dello Spirito. E tutto questo ci porta a leggere il brano del Vangelo di oggi con una disponibilità a cambiare radicalmente mentalità. Ascoltiamo dunque le parole del Vangelo e cerchiamo di fare in modo che questi riverberino nel corso della nostra giornata. del Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli Io vi dico, chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anche il figlio dell'uomo lo riconoscerà davanti agli angeli di Dio. Il riconoscere il figlio dell'uomo, il figlio di Dio. È un'opera non particolarmente semplice perché il figlio dell'uomo, il figlio di Dio, ci chiede una conversione costante relativamente al nostro modo di vivere, alla nostra mentalità, troppo spesso mondanizzata. Certo viviamo in questo mondo, non c'è nessun dubbio, ma possiamo anche vivere serenamente in questo mondo senza obbedire alla logica di questo mondo. E pertanto il riconoscero o il non riconoscere il figlio dell'uomo si concretizza nel nostro modo di interpretare la dimensione della giustizia e dell'amore. Ma chi mi rinnegherà davanti agli uomini sarà rinnegato davanti agli angeli di Dio. Quali sono le azioni di rinnegamento? Facciamo solo qualche esempio. Il respingimento del prossimo che bussa alle nostre porte, spinto dalla miseria, dalla fame e della ingiustizia. Non riconoscerlo nella sua sacralità significa rinnegare, non riconoscere la presenza del figlio dell'uomo. Possiamo anche essere dei credenti zelanti, attenti alla ritualità, conformi a ogni forma di moralismo che ci invita a essere buoni. Ma quando poi concretamente siamo chiamati al discernimento tra il bene e il male, lì dobbiamo fare i conti col nostro egocentrismo, con il nostro egoismo. E respingere il prossimo significa non riconoscere la presenza del figlio di Dio. È solo un esempio. Ce ne potrebbero essere molti altri, le ingiustizie, le nostre indifferenze nei confronti delle ingiustizie. Il finire per avvallare e giustificare. L'ingiustizia significa condannare gran parte dell'umanità alla miseria e alla fame. E poi ci chiediamo ma io cosa c'entro? È semplicemente non ti sei fatto. Illuminare dallo spirito di discernimento che ti chiede di percorrere la strada della salvezza nell'amore nei confronti del prossimo. Ma deve essere un amore concreto, finalizzato a salvaguardare il pianeta e il bene comune. Chiunque parlerà contro il figlio dell'uomo gli sarà perdonato, ma chi bestemmia lo Spirito Santo non sarà perdonato. Un passaggio molto forte questo. Magari possiamo anche essere momentaneamente incapaci di riconoscere e addirittura parlare male del figlio dell'uomo. Ma ciò che conta soprattutto è la nostra disponibilità, o meno, di ascoltare lo Spirito Santo. Per non credenti significherà qualcosa di astratto, ma significa sostanzialmente ascoltare la voce della vita. Bestemmiare contro lo Spirito Santo, contro l'essenza della vita è imperdonabile. E questo lo possiamo osservare giorno dopo giorno. Nelle grandi tragedie del nostro tempo, le pandemie, la crisi economica finanziaria, le guerre, gli insulti che noi infliggiamo a nostra Madre Terra, rappresentano la bestemmia nei confronti dello Spirito Santo che è spirito di discernimento. E per i non credenti è una bestemmia nei confronti del dono della vita che abbiamo ricevuto e che siamo chiamati a servire. Sì, servire, non dominare. Quando vi porteranno davanti alle sinagoghe, ai magistrati e alle autorità, non preoccupatevi di come o di che cosa discolparvi, o di che cosa dire. Perché lo Spirito Santo vi insegnerà in quel momento ciò che bisogna dire. Questo rappresenta un affidarsi, convinto, fiducioso. Non dobbiamo macchinare chissà quali giustificazioni di fronte alle colpe che ci vengono attribuite ingiustamente. Non dobbiamo cercare un discorso precostituito. Lasciamoci andare, anche laddove vi sia la persecuzione, a una parola che nasce nella nostra disponibilità a lasciarci andare, alla forza illuminante dello Spirito, alla forza illuminante della vita. E quindi oggi siamo chiamati a vivere intensamente con coraggio la fede che illumina la nostra esistenza, credenti o non credenti, senza mai cadere nelle trappole difensive e paranoiche di una mondanità la quale non intende ascoltare. La voce dello Spirito Santo, la voce della vita che parla in maniera molto chiara e precisa relativamente a quale debba essere la strada per cambiare mentalità, per essere protagonisti e testimoni di conversione. Buona giornata a tutte e a tutti.